Un nuovo viaggio, una nuova lettura, un nuovo mondo insieme a Barbara Marcian. Ciao Barbara! Buonanotte Fabio, buonanotte a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Io vado sempre sul più difficile, ma me ne accorgo sempre dopo e quindi non posso più tirarmi indietro. Però devo dire che questo libro che ho nella mia biblioteca ovviamente, perché tutti i libri che io recensisco qui sono tutti presenti cartacei nella mia biblioteca. Non saprei recensire un libro che non ho letto oppure che non ho in mano. Questo l'ho riscoperto, devo dire la verità, ve la dico tutta. L'ho riscoperto perché non me lo ricordavo proprio più. Voi sapete che ci sono dei momenti nella vita in cui prendi in mano un libro, lo leggi, e a seconda delle tue esperienze arrivate fino a quel periodo della vita, lo interpreti come hai vissuto. E devo dire che questo libro che alcuni danno del 2015, come stampa del giugno 2015, invece per me è del 2009, mi ha riscombustolato la vita, perché l'ho visto e lo rileggerò, vi assicuro, pagina per pagina, adesso io l'ho rivisto proprio per parlarne con voi, perché va riletto, va riletto a seconda delle esperienze di questo momento. Perché? Perché intanto si intitola Il libro dei misteri sublimi e come sottotitolo ha Le cose intorno a noi nascondono una realtà più profonda dove il tempo e lo spazio abituali perdono i loro limiti ed i misteri si sciolgono nell'esperienza della pura coscienza dell'essere. Allora voi mi direte, rispecchia un po' l'arte di vivere oggi. No, non è così. Sono delle domande ben precise che si fa, si è fatto perché non è più con noi, Cesare Boni, Edizioni è Verde Chiaro, Edizioni appunto è il mio libro del 2009, quindi ve lo posso assicurare, c'è proprio scritto. E le domande che si fa a Cesare Boni sono le domande che ci facciamo praticamente tutti in un momento della vita, ripeto, in un momento della vita. Forse a vent'anni non me le sarei fatte, questo è poco ma sicuro, ma perché? Se sono nato devo morire. È vero che la morte è la fine della vita? Poi si dice che esistono due vite, questa vita e l'altra vita. Non è facile pensare quando sei in età diversamente giovanile, chiamiamola così, pensare a queste domande. Chissà perché uno vive fino a 94 anni, un altro muore a 17 in un incidente. Sì, mi direte, c'è il karma, eccetera, eccetera. Vabbè, l'opera di Cesare Boni è frutto di 40 anni di ricerche e di pratica. Qualcuno mi potrebbe anche criticare. Perché? Perché Cesare Boni è pro-eutanasia. Allora, questo discorso lo lasciamo da parte. Mi potrebbe criticare perché? Perché l'autore ha sposato, fra virgolette, diverse tradizioni tra l'induismo, il buddismo, l'islamismo, il cristianesimo, la cabala, eccetera, eccetera. Però, secondo me, è uno studioso, sottolineo tre volte studioso, nell'ampio significato della parola. Lui predilige forse le tradizioni indiane. Infatti il libro è dedicato a Swami Mukartananda. Però, vabbè, questo è un problema suo, non è un problema nuovo. Certo, ci sono delle parole nel libro che sono in lingue da noi abbastanza sconosciute. La trattazione dei vari misteri può risultare per qualcuno difficile e pesante. Ritorno al discorso iniziale. È a seconda della vostra preparazione, della vostra età. E su questo non transigo, perché effettivamente è così, l'ho provato sulla mia pelle. Cesare Boni aveva già scritto un libro grandioso, ma io trovo anche questo molto grandioso, che si intitolava Dove va l'anima dopo la morte? È un libro che ci fa incontrare con la spiritualità. Cesare Boni ha messo, in questo libro, il libro dei misteri sublimi, ha messo a confronto le sacre scritture dell'Oriente e dell'Occidente per trovare un punto d'incontro e poter dare una risposta soddisfacente ai cosiddetti misteri della fede. Ricordiamoci che il libro è frutto di anni e anni di studio, quindi non si può sparare così a secco contro Cesare Boni, come qualcuno magari potrebbe pensare di fare. Cesare Boni è andato a Cuneo e io di Cuneo conosco ben tante cose perché andavo in vacanza e questo ve l'ho già svelato forse in un'altra puntata a Limone Piemonte, andavo a sciare e poi d'estate in montagna a 1010 metri di altitudine ed è in provincia di Cuneo, eravamo a 20 minuti da Cuneo, quindi c'era il mercato il venerdì pomeriggio e noi andavamo al mercato a Cuneo. Cesare Boni è nato a Cuneo in una famiglia piuttosto rigida e severa dove imperava il senso del dovere e dell'ubbidienza e lui subito si è dimostrato un contestatore, un tipo che si poneva appunto delle domande che erano scomode, allora e oggi sicuramente, come chi è Dio, chi siamo noi, dove andiamo, perché viviamo e perché dobbiamo morire, sono tutte domande, credo, che ogni essere umano cresciuto forse, anche soltanto con la mente, dovrebbe farsi e credo che molti, molti si facciano queste domande. Allora lui ha studiato tutto, lo yoga, il buddismo tibetano, le sacre scritture dell'Oriente, eccetera eccetera. Allora, come si fa per dare una risposta a queste domande? Non è semplice, ma credo che ognuno di noi se le possa dare nella più intima natura, perché non sappiamo ed è grazie giusto alla mente, perché la mente è l'unica che ci porta alla consapevolezza e ci fa conoscere il relativo per conoscere l'assoluto. Io sto dicendo delle cose non a caso, sicuramente, ma anche difficili, anche per me. Lui parla del Salvatore che è presente in quasi tutte le tradizioni religiose con tratti molto simili nonostante le tradizioni culturali siano molto diverse. Allora lì io ho delle riserve perché ognuno di noi ha la propria fede. Non sono molto d'accordo con la Trinità, ma sono d'accordo con una certa Trinità, la mente, l'intelletto e l'ego dove c'è la mente appunto per raggiungere la conoscenza questa mente che genera i cinque sensi che conosciamo bene per venire a contatto con la materia. Non mi voglio inoltrare in discorsi troppo difficili perché se no non ne verrei fuori, non saprei come districarmi. Boni però cita una frase, una frase di Schelling che può anche piacere e dice così la totalità del mondo materiale è una musica gradualmente condensata, una somma di vibrazioni le cui frequenze aumentano nella massa man mano che si materializza. Allora è forse anche se è difficile un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole. Sì, avete sentito bene un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole perché gratifica la mente e l'intelletto e conduce chi lo legge verso una visione cosmica dove forse alla fine i dogmi e i misteri perdono significato quindi il titolo del libro a questo punto perderebbe anche significato. Allora da il libro dei misteri sublimi di Cesare Boni verde chiaro edizioni edizione del 2009 ecco qua come previsto al compimento del nono anno sono stato mandato a fare la preparazione religiosa per la prima comunione dai gesuiti del collegio San Tommaso la cultura religiosa era articolata su tre diversi temi di studio gli episodi della Bibbia e del Vangelo raccontati ai ragazzi la vita dei santi opportunamente selezionati e il catechismo il catechismo era strutturato in domande e risposte che dovevano dare al bambino una visione completa sia pur elementare dei principi della nostra religione questo modo di insegnare non lasciava spazio a nessun approfondimento a nessuna contemplazione a nessuna ricerca che peraltro non solo non era richiesta al bambino ma nemmeno desiderata dagli insegnanti quella era la verità e basta d'altra parte a disposizione non vi era che questo sapevamo che esisteva una religione ebraica dalla quale si diceva la nostra derivasse in fondo non si poteva negare che Cristo fosse un ebreo ma di questa religione non si doveva parlare il regime fascista stava sistematicamente massacrando gli ebrei nel silenzio di chi sapeva e nell'ignoranza di chi non sapeva vi erano è vero nelle nostre valli i cosiddetti protestanti specie valdesi o testimoni di Geova ma noi vivevamo come se loro non esistessero anzi ci avevano detto che erano pericolosi e quindi non si dovevano avvicinare domanda chi ci ha creato risposta ci ha creato Dio domanda chi è Dio risposta Dio è l'essere perfettissimo creatore e signore del cielo e della terra a questo punto ho domandato dove posso trovarlo non lo puoi trovare perché abita in cielo ma se il creatore del cielo e della terra perché abita solo in cielo e non anche qui a questo punto per la prima volta è scattata la famosa frase che mi avrebbe perseguitato per tutti gli anni della mia crescita questo è un mistero non lo puoi sapere così fra indottrinamento e misteri la mia istruzione religiosa continuava avevo delle grosse difficoltà ad accettare che vi fosse tanta diversità tra chi stava bene economicamente e il povero perché se siamo tutti figli dello stesso Dio e siamo venuti così come diceva il catechismo per amarlo e servirlo in questa vita che si diceva essere una sola e per goderlo poi nell'altra in paradiso vi erano così tante differenze sostanziali nelle nostre vite ancora una volta ho chiesto ho capito che è un mistero il perché non posso godere Dio in questa vita e quindi devo attendere la prossima ma perché dobbiamo servirlo noi in una vita abbastanza ricca dove beviamo bene mangiamo meglio dove non vi sono difficoltà economiche e gli altri bambini devono servirlo nella miseria e nella privazione di una vita povera la risposta la ricordo assai bene è stata questo non c'entra con il catechismo pensa a studiare le risposte e non cercare di sapere quello che nessuno sa avevo capito che anche questo era un mistero e ce ne sono tanti altri nel libro dei misteri sublimi di Cesare Boni Verde Chiaro Edizioni e con questo vi saluta Barbara Marchand a buon riflettere am